Lei è preside di due istituti che hanno riaperto oggi e del Milli che riaprirà domani. Quali sono i problemi in quest'ultimo istituto? Il Milli sono problemi di infiltrazioni d'acqua sul tetto e per questo appunto dopo gli ultimi eventi sismici abbiamo ritenuto opportuno, concordemente con la provincia e il responsabile della sicurezza istituto, trasferire le classi a piano terra recuperando gli spazi di un'associazione. Quindi praticamente non ci sono stati tempi perché l'associazione doveva traslocare, c'è stata la collaborazione di tutti per questo, lo stiamo facendo in tutta tranquillità e recupereremo questi spazi fruibili per gli studenti. Polemiche sulla riapertura scaglionata delle scuole, ha avuto modo di parlare con i genitori? Noi sì, abbiamo parlato con i genitori, con la Presidente del Consiglio di Istituto del Milli in particolare, abbiamo messo già come scuola, la signora ha messo a disposizione il suo recapito telefonico e la sua mail per tutti i rappresentanti di classe. Noi abbiamo facilitato questo collegamento, ieri abbiamo convocato il Collegio di Docenti e il Consiglio di Istituto, sono stati presenti i rappresentanti sia dei genitori che hanno portato le loro richieste, ma noi le avevamo già parlato in Collegio Docenti e quindi ci sono state decisioni comuni sia per quanto riguarda la didattica, sia per quanto riguarda la riapertura, sia per quanto riguarda tutto quello che riguarda la sicurezza. Abbiamo messo tutte le schede date dalla provincia dei rilievi della protezione civile, le lettere che il Presidente di Sabatino ha fatto alle scuole anche sugli impegni per le certificazioni di vulnerabilità sismica. Speriamo che queste situazioni, questa situazione molto delicata per le scuole della città, che chiaramente ha destato grande preoccupazione e destra grande preoccupazione alle famiglie, riporti però al centro la didattica, gli studenti e si faccia in modo che la provincia mantenga tutti quegli impegni che ha preso e anche gli investimenti che ha promesso per le scuole, anche per l'ordinaria manutenzione. Sa già quando partiranno le verifiche sulla vulnerabilità sismica? Il Presidente della provincia, nella lettera che abbiamo reso pubblica, che ha reso pubblica e che noi abbiamo messo a disposizione per la trasparenza sul sito della scuola, entro il mese di febbraio mi sembra che ha promesso che farà gli incarichi, perché per cominciare, oppure anche definire, ci auguriamo, le certificazioni di vulnerabilità sismica degli istituti scolastici. Speriamo che questi impegni vengano mantenuti, questo è un momento importante e speriamo che i ragazzi rimangano a Teramo. Adesso dobbiamo far fronte comune, tutti, genitori, scuola, amministrazione, affinché questa città possa rimanere al centro di questa provincia con gli studenti che rimangono nella scuola della città, perché potrebbe esserci una fuga verso il mare e quindi questo sarebbe veramente un danno per le scuole di Teramo e per la città tutta.